Ok ragazzi è arrivato un nuovo gioco Adesso lo andiamo a vedere Questo Questo qua Guitar Hero Live Andiamo a provarlo Andiamo tutti assieme ad aprire la scatola Ok ci siamo Stiamo per aprire Guitar Hero Live Allora studiamo Ok all'interno c'è Allora il gioco Questa qua Come potete vedere guardate che stile Ok Il manico della chitarra Perché sono agganciabili Per conservare la scatola Ok Anche la corda per tenerla al collo Quest'anno Una chiavetta Chiavetta Guitar Hero Live Per attaccare La chitarra E le pile stilo Per la chitarra Perché va in frarossi Ok ora facciamo il confronto Tra le due chitarre Il confronto tra le due chitarre Allora La vecchia chitarra Aveva I pulsanti qua Tutti in ordine qua Aveva questo e questo era il rimasto Con questa rotellina qua E gli adesivi Adesso andiamo a vedere Le altre E l'altra come è fatta Abbiamo montato la chitarra E' un'ottima chitarra Un po' più vasta Dell'altra Come potete vedere Qua ci sono i tasti Sono tutti uno sopra l'altro Qua è rimasto Così c'è il blocco Ancora perché Qua c'è E' tipo Di quel di là Però è diverso Qua e qua Ma Il gioco adesso Non mi ha fatto ancora vedere Il gioco Ma Ora Ve lo farò vedere Andiamo ad aprirlo Questa è la custodia Il dietro E Olè Aspettate che veloce Guitar Hero Live Con anche le istruzioni E basta Questa era l'unbozzi Adesso Andiamo a provare il gioco Eccoci Siamo arrivati Guitar Hero Live Sta per iniziare Allora Come vi posso ben dire Guitar Hero Live E' un bel gioco Molto bello Molto fatto bene Insieme anche a Denti P E adesso Mi dice Allora Schiacciare la barra Schiacciare qua La rottellina E' questa Ok Vediamo un attimo Il video Oh oh Allora Premi Ok Altoparlante tv ingresso No questo E allora Calibrazione video La Par Con le Configurazione Completata Ok Siamo pronti Farà fare una prova adesso Vediamo O il video O il video Ah Eccoti qua Sei un po' in ritardo Diamoci una mossa Molto bello Vedete Vedete Vi fa provare Ma vedete come L'ice Che c'è il signore E' molto bello E' molto bello Sta cosa Ok Bello ragazzi Guardate Bene Adesso un paio Su quell'inferiore Grazie 3 2 1 Andiamo Bene Fammi vedere Come si fa Un bel bar Ora qualche Accordo diviso Questi due Vedete 1 e 2 Andiamo E ciao Non un granché Ti pare Ho bisogno Di sentirne alte Andiamo Rivediamo Rifacciamo Che è meglio No Suona qualche Pennata aperta Mentre finisco Di preparare Ok Pennata aperta Sarebbe Solo Quello in mezzo Ci sei Ok Io ci sono Tu sei a posto Ok Ci siamo E questo Era il video Di chitarino live Adesso Vediamo Se c'è qualcosa Vi fa fare Una prova Così vi faccio Vedere Ragazzi Ah Eccoti qua Sei un po' In ritardo Diamoci una Mossa Rifali vedere Il tutorial Va bene Questo è Guitar Hero Live Ci vediamo Alla prossima Alla prossima